MAMMO TANTO MAMMO TATO CARLOS SHAVI NO ME STA SUI COGLIONI NO VOI NO DOTTORE MANCO VOI EURENDO HO VISTO CHE USCITO PITERCHEC MA QUANTO COSTA PITERCHEC SCUSA 82, 83, 84, 86 QUANTO STA SUL MERCATO PITERCHEC MA IL MID MA IL BABY O IL MID QUESTO 88 SARA IL MID CHECHA PRUDENTE SUI GROSS PORCO DIO CHE SBOCCO IL GRANDE PITERCHEC PERO C'HA ARCASCHETTO 87, 86 CON LIFF 85 CON LIFF MA IL STA I CATTENCELLO MA IL STA I CATTENCELLO MANCO CORBINOCOLO SI MA QUA MI STA TANNA FANNA SCAMMATA QUA DENTRO SAI CHE C'E STA PIPPO, BABY, VIERI QUA C'E VIERI QUA C'E VIERI DENTRO STA SFIDA MA SE Gli METTO STO VAN BASTEN DENTRO LA SFIDA SECONDO VOI E' DA FIDE LA MIGNOTTA MA CHE CE DO FA CON STO VAN BASTEN 30 PARTITE, 29 GOL UN FENOMENO NO QUER CAZZO È IODO NO 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 IODO QUER CULO CHE C'HO MORI DA NO 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 IODO QUER CULO CHE C'HO MORI DA INVIDAMI ALES STO APPRENDENDO GLI INVIDI INTANTO FINISCO LA MIA ICON APRO LA MIA ICON E PAY APRO LE VOSTRE 25 DE DIAS 25 DE DIAS 50 25 DE DIAS 75 25 DE DIAS 100 116 CI E' COSTATA 126 K STYGON SVOTANDO IL CLEB OVVIAMENTE CERTA C'HO L'EBOLA NON LO SENTO BONO CHE'untich Arzt Se io faccio così non vedo ok non vedo Scappe tutte bianche Ma che è sta... Oh, Olanda Non dimmi che... Non mi dica che bambassano ancora Oh Bono Porca troia Se era bambassano un'altra volta è impazzivo Ma che cazzo è? Van Persi e bambassano mi ha dato Vabbè, è bono lui Lui è forte Guarda che cartina Alla prossima va a Anderzart Poi va a Nister Roy Vabbè, lui è utilizzabile Il problema è che ora non me lo posso mettere in squadra Ma quanto sta poi i bambassi? 750 Ma non stava ammione questo? Non stava tipo ammione e passa Allora, chi c'avevo da aprire? Il vertebrato Let's go Ma che cazzo è? Porco Dio, che è Magumba 150 game dell'Houdroop 130 game del Skulls non scambiabile È cristante non scambiabile Ma chi cazzo ti può dare? Però me lo voglio Me lo voglio Me lo provo a indovinare così No ma Beh, te l'ho aperto così ormai Rip Te lo voglio indovinare così Allora, non è uscito subito Mi sa che è una pippa al sugo Ma dove sta? Allora, c'ha i cavatte nere Bella Ma come cazzo balla? Spagna Mamma mia E chi è? Raul Torres Hierro Xavi K99 Ah, ma è un portiere Ma è Casillas 84 Pia Leggi Stai tipo Ah E quanto sta sto fenomeno? Ah 170 mila Ah Ci rimettiamo in posa Let's go Oh, è me Ma è rotta il cazzo No, questo che cazzo scivola Porco Dio Allora, ciavatte bianche Oh, Argentina No, aspre Ok, Maradona Ma c'è pure i richelme E poi che cazzo c'è Argentina? No, non può essere Maradona Perché vedo le gambe oscure Vedo delle gambe oscure 70 fisico 70 passaggio Mezzanetti Crespo Ma come crespo? Ma ancora campa? In che senso oscure? Il grande crespo Mamma mia Ma se può trovare uno Che costa più dalla sfida? Ma vanno persi Sto baciando per terra, eh Allora Prediction Ci andiamo a fare subito un'altra bet Questa è pazza, eh Icon Vale più Di 500k Deve vale più di mezzo milione Secondo voi vale più di mezzo milione Ragon che c'è in questo pacchettino Let's go Me puzza Oh, questo sta già qua Mi sa che è un fenomeno Ma che scarpe c'ha? Scarpetti Allora vuol dire che non è vecchio Quindi in realtà vuol dire che è una merda Ma come va? Ma che fa? Bandiera inglese Che apirai? E chi cazzo? Sono tutti schifo Bandiera inglese Lampard Paul Scholes Gerard Lineker Ah no, aspetta C'è Rio Ferdinand Forse è l'unico bono 81 di fisico 88 di passaggio 80 Ah, è Gerard Vabbè Non è pessimo Però vale de meno De mezzo milione Ovviamente Porco Dio 200.000 Io in centro Un cazzo Vediamo un po' chi è Vediamo un po' chi è Schiarpette blu Mmm Non è un buon segno Ma si è messo per terra Così lo vedo Arza de coglione Pavel Nedved No no È Peter Check È pure peggio Porco Dio È pure peggio Mamma mia Check Baby Vabbè Se era Pavel Nedved Era pure buono Prudente Sui grossa Ma devo facciare Nascondino con questo Non ho capito Se ti fassi Oddio Non è che c'ho tutta Sta voglia Vabbè dai Famolo Ma io non so Boh Non è che Te lo butto Te lo scarto No no Vabbè Nel chilling Devo aprire lo schermo Devo chiudere lo schermo Io te lo apro Non so se l'ho aperto Sì Mo l'ho aperto Non so chi è Ok Vedo l'animazione L'ho mandato nel club Adesso Non ero ovviamente Questo coglione Allora che cazzo Devo Non ci ho pensato Porco dio Ma come dovevo Cercare dal club Ma che cazzo Ma chi l'ha mai fatto Ma che cazzo Devo Porco dio Dovevo andarlo Dai trasferimenti A cercare Ah sì Fai L3 da là Vabbè Oh Clarenz Ederf Buono Poi che cazzo Ne so Vabbè Si è nascosto poco È uscito subito Vabbè Lancio via Il grande Oh Ma questo Te serviva cc Qua pregio Guarda che bello Toc Toc Guarda come si incastra bene Il grande Clarenz Ederf E infatti Prima avete detto Ma in lista Trasferimenti Io non capivo Facevo In lista Stavo tipo Ma perché Ce devo andare Questa Favamo nascondino Che abbiamo capito E poi Pam 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 E S'abbracciamo Bene Lai con il tuo Timote Se vuoi fare Nascondino o meno Se non lo vuoi fare Sti cazzi Allora Sfaffanculo Nascondino Ma va Però ma vedo Piano piano Let's go Attenzione Oh Scarpe Completamente Nere No Che fa Che cazzo fa Così lo vedo Scarpe Completamente Oscure Potrebbe essere Ciotto Oh Brasile Ma come Brasile Ma ne che è Pelè Questo 85 Di passaggio 70 76 Di fisico Non dimmi Che è Quel coglione Di sogra Adesso 87 Di tiro 86 Di velocità Ma che è Cacà Rivaldo Che Merda Al sugo Porco Dio Che Merdoso Cazzo Questo è proprio Il più stranso Figlio Di puttana C'è da dirlo C'è da dirlo